musica musica benvenuti in vostra nuovissima io sono Far Cry 6 ben tornati nell'ottavo episodio su Far Cry 6 oggi dobbiamo andare a parlare con di Alena che si trova qua in borda ragazzi che parliamo o come andano va a un punto di bar giusto vediamo che ci dice dobbiamo andare a festeggiare ragazzi ok da notare che io ero arrivato qua e mi è incasata la mia macchina tra il palo e qua ma non riesco più a uscire se la fa macchina aspetta dai guarda il caso di accendere la radio vabbè dove no non 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 dobbiamo festeggiare praticamente dobbiamo festeggiare perché non non perché non la chiudi la radio la radio non mi ando copia non mi ando copia non mi ando copia non mi ando copia scendiamo basta sta radio non ci adesso 바inca adesso Grazie a tutti 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 Loro Grazie a tutti 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 Cioè Grazie a tutti 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 Allora Grazie a tutti 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 Bravo Buono Grazie a tutti 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 Grazie a tutti